Ed ecco alcune delle più celebri dichiarazioni di Nelson Mandela nel corso della sua vita. Sono qui davanti a voi non come un profeta ma come un umile servitore della gente. I vostri instancabili ed eroici sacrifici mi hanno permesso di essere qui oggi. Stiamo andando avanti. La marcia verso la libertà e la giustizia è irreversibile. Ho combattuto con molta fermezza contro la dominazione dei bianchi, ho combattuto con molta fermezza contro la dominazione dei neri. Mi piace l'idea di un nuovo Sudafrica in cui tutti i sudafricani sono uguali. La gente comune sudafricana è determinata a far conoscere il passato. Più si conoscerà meglio sarà per essere sicuri che non si ripeterà. Non per vendetta ma affinché possiamo andare verso il futuro insieme. Dopo quasi 90 anni è tempo che altre mani raccolgano il testimone. È nelle vostre mani ora. La battaglia è in le vostre mani ora.